Una convenzione per gli imprenditori del comparto vitivinicolo è questo l'oggetto dell'accordo firmato tra la Banca di Credito Cooperativo di Napoli e il Consorzio di Tutela Vini dei Campi Flegrei, Ischia e Capri. L'Istituto di Credito, preseduto da Amedeo Manzo, punta a valorizzare il settore e sostenere l'intero comparto vitivinicolo, in particolare il Consorzio di Tutela Vini dei Campi Flegrei, Ischia e Capri, che ad oggi conta 205 imprenditori. La BCC di Napoli, da sempre vicino al territorio, offre alle piccole imprese con fatturato fino a 500 mila euro e con massimo di tre dipendenti, l'opportunità di fronteggiare l'attuale congiuntura economica attraverso il ricorso ad un valido strumento finanziario dedicato con un finanziamento a medio e lungo termine fino al 50 mila euro assistito dal fondo di garanzia con un tasso massimo del 4% calcolato in base al rating della ditta individuale o della società. Ai nostri microfoni il presidente Amedeo Manzo. Una grande iniziativa che l'associazione ha voluto portare avanti e siamo felicissimi di accogliere questa nuova iniziativa legata al primo vino di Procida con delle uva particolari e che naturalmente daranno lustro alla nostra catena vinicola, ma soprattutto stare vicino a tutta la filiera dei produttori del vino, del segmento che naturalmente si sviluppa per i Campi Flegrei, per Ischia, per Capri e ora naturalmente aggiungiamo l'importantissima patria della cultura che appunto è Procida. A sottoscrivere l'accordo Michele Farro che ha prodotto il primo vino Procida DOP, Biaggio Lubrano Lavadera e Andrea D'Ambra che ai nostri microfoni sottolineano. Questa è la prima volta che si realizza insieme alle uve del del signor Lubrano Biaggio al fine di incentivare la produzione di vini sull'isola stessa e al tempo stesso fortificare la DOP Flegrei di cui noi ci vantiamo che appartiene. Sono delle uve appartenenti sempre ai Campi Flegrei, sono le nostre uve più antiche, sono in questi vitigni che da tre generazioni coltiviamo con la nostra famiglia, prima mio nonno, poi mio padre e adesso io. Fare i vini, coltivare la terra soprattutto su un'isola è doppiamente eroico, si parla tanto di viticoltura eroica, di viticoltura dipendenza come esiste a Ischia o soprattutto è eroico chi coltiva la terra e fa il vino su una piccola isola perché si confronta con un settore economico molto più facile diciamo che è quello turistico, turistico balneare eccetera. Quindi io premio tantissimo, aiuto tantissimo chi fa viticoltura sulle piccole isole.